ciao e bentornati nel mio garage io sono stefano oggi parleremo nuovamente di o light o light è un'azienda che produce delle fantastiche torce torce da lavoro torce tattiche torce edc insomma torce belle bellissime costose ma bellissime forse tra le migliori se non le migliori che ci siano in commercio o light nei prossimi giorni farà una grossa promozione ne fanno circa un al mese e ogni tanto mi contattano per farmi provare qualche prodotto nuovo e oggi ne proveremo ben due la warrior mini 3 e la baton 3 pro max mamma mia pro max e qui ho messo anche la warrior 3s che abbiamo già provato in un video precedente proprio per confrontarla col modello inferiore andiamo a vedere la prima sigla bene qui abbiamo tre torce diciamo di due categorie diverse queste sono torce tattiche anche se possono essere usate come torce edc edc che cosa significa everyday carry da portare in giro ogni giorno che poi è diventato sinonimo questa sigla edc edc è diventato sinonimo di torcia a largo uso ad utilizzo diciamo generale ecco torce da campeggio da esplorazione insomma anche da tenere in casa se manca la luce questa è la torcia edc da avere sempre con sé sempre a portata di mano la torcia tattica invece lo dice il nome è un pochino più specialistica delle caratteristiche un po diverse comunque adesso le vediamo anche perché si fa presto a dire tattica ci sono diversi gradi diciamo in torcia tattica qui abbiamo due torce tattiche sì ma che strizzano l'occhiolino a un utilizzo un po più generale cominciamo proprio dalla button 3 che è una delle mie preferite ce l'ho da un bel po perché me l'avevano mandata per fare un video poi non avevamo i tempi tecnici per farlo quindi avevo solo fatto dei post su facebook instagram e youtube e è rimasta lì da provare e finalmente oggi la vediamo arriva in una scatola di cartone leggero perché fa parte diciamo della fascia inferiore chiamiamola così di o light anche se inferiore non è adesso lo vediamo quindi l'ho richiusa con un pezzettino di scotch dato che una volta aperta non si può richiudere e vediamo cosa c'è nella confezione intanto un paio di caratteristiche qui non dice niente dice soltanto che ha un sensore di prossimità che è una delle caratteristiche che rende abbastanza esclusive le torce o light non sono in molti ad avere questa caratteristica abbiamo le solite direi caratteristiche di una torcia o light protezione d'acqua e polvere ipx 8 quindi sommergibile fino a 2 metri e totalmente resistente alla polvere resistente alle cadute da un metro e mezzo su pavimento duro ovviamente e sistema di ricarica proprietario o light magnetico lo vediamo tra poco la portata massima è di 145 metri con una potenza in lumen di 2500 lumen abbiamo torce meno potenti come lumen ma molto più profonde come portata proprio perché questa non è una torcia che ha come mestiere principale quello di tirare lontano è una torcia più da utilizzo diciamo ravvicinato con un ampio campo di illuminazione insomma la torcia edc appunto la luminosità massima come diceva di 2500 lumen in turbo per un minuto perché il turbo serve più che altro come flash cioè è fatto per essere usato per pochi minuti e poi un po i produttori lo usano come non direi specchietto per la lodole ma come pubblicità 2500 lumen si poi in realtà potremo utilizzare per un tempo ragionevole 800 lumen che sono comunque parecchi per 240 minuti ecco poi faremo un confronto dei dati dichiarati in candele perché le candele misurano l'illuminamento e non la potenza luminosa in pratica quanto viene illuminato il soggetto ok il bersaglio un po come il lux c'è tutto un discorso dietro molto complicato comunque adesso vedremo molto velocemente insomma poi in potenza high abbiamo 800 lumen per 243 minuti più 120 lumen quindi poi diminuisce l'umidità per 80 minuti in potenza media abbiamo 120 lumen per 23 ore e qua si comincia a ragionare diciamo come autonomia naturalmente la potenza media da usare a distanza più avvicinata non tira lontano tira 32 metri 32 metri significa che a 32 metri abbiamo la luminosità di un lux l'illuminamento sul soggetto di un lux 105 addirittura in pratica lo si vede appena appena ma questa è la norma iec di riferimento quindi non è che si inventano qualcosa in potenza bassa abbiamo 15 lumen per 180 ore in modalità moonlight che è la più bassa abbiamo un lumen per 60 giorni è una luminosità molto bassa che serve appunto più che altro per essere visti o comunque come riferimento per vedere un punto da lontano cose del genere sotto la tabella che ho letto c'è un'altra tabella il riferimento è cool white cioè la nostra di questa sera e la warm white che è l'altra versione che ha una potenza un po inferiore 2000 anziché 2500 lumine eccetera poi ci sono tutte le varie differenze ma questa sera vedremo la cool white luce fredda il peso di 150 grammi circa incluse la batteria batteria che è una 21.700 quindi è una batteria potente grossa e vediamo anche che tipo di batteria montano vedete 5000 miliam per ora attenzione perché le batterie di o light non sono compatibili con altre batterie generiche quindi non possiamo comprare una 21.700 generica e metterla in questa torcia non funzionerà purtroppo perché questa è leggermente più lunga quindi l'altra ballerà non farà contatto e in più qui sono riportati sia il positivo che negativo mentre le altre hanno il positivo da una parte e negativo dall'altra insomma light ha fatto delle cose un po per conto suo anche per farci comprare le sue batterie ma comunque vabbè sono batterie di alto valore di alto rendimento quindi va bene non costano neanche poi una follia certo più delle batterie generiche guardiamo la torcia naturalmente ha un'estetica curatissima come è tradizione o light guardate quanto è bella qui c'è la sigla button 3 pro max di qua o light una clip da cintura removibile anche se secondo me non vale la pena rimuoverla fatta ad s quindi possiamo infilare sia di qua che di qua abbastanza lunga questa è acciaio con una finitura azzurra e le finiture azzurre sono riportate anche attorno al pulsante d'accensione e attorno alla lente qui c'è il sistema di ricarica lo vediamo subito è l'unico comando che ha qui un tasto laterale in gomma con una lucina l'avrete vista lampeggiare che quando scuoto la lampada mi dice a che punto è la batteria adesso è verde perché è carica questa è una cosa molto comoda e esclusiva di questa torcia baton 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 lei per il resto troviamo cavetto di ricarica una l metallica di acciaio poi vediamo cosa serve un adesivo e una custodia morbida purtroppo non può essere utilizzata come custodia cintura solo protettiva libretto di istruzioni anche in italiano ma alcune informazioni sono date solo in inglese copertina protettiva che ci dice le cose principali da fare prima di usare la torcia per esempio togliere la protezione dalla batteria altrimenti non funzionerà protezione è questa la trovate dentro dovete svitare come ho fatto prima sistema di ricarica usb di tipo c massimo 2 ampere naturalmente dovete utilizzare un caricatore che avete e come tutte le torce o light è semplicissimo qui si illumina un led che ci dirà rosso se è in carica verde quando ha finito di caricare questo garantisce la piena impermeabilità senza tappi da togliere classici delle macchine che invece hanno la presa usb questo invece no magnetica svantaggio dobbiamo sempre portarci dietro il suo cavetto ora vediamo questo accessorio anche lui brandizzato o light con un biadesivo nella parte inferiore prendiamo una superficie in ferro vedete che questo non è magnetico se noi volessimo utilizzare la torcia in posizione angolata possiamo utilizzare questo però questo andrà messo in modo stabile quindi nel momento in cui decidiamo dove utilizzarlo li resterà onestamente io avrei preferito una bella calamita qua cosa che possiamo sempre fare prendiamo un magnete al neodimio se noi abbiamo a disposizione uno di questi che è un magnete al neodimio sono delle piccole pastiglie potentissime possiamo attaccarlo qui magari stabilmente col suo adesivo dopo di che allora si avremo un supporto realmente utile perché si potrà attaccare a qualsiasi supporto di acciaio di ferro e quindi utilizzare la torcia anche in posizione verticale adesso chiaramente ruota perché il magnete attacca bene sul martello ma non attacca bene qui che c'è l'adesivo perché continuo a ripetere secondo me questa cosa dell'adesivo è poco utile magari un'idea per o light di mettere direttamente un magnete potente anche su questa base allora renderà molto più versatile di tutto comunque la torcia può essere utilizzata da sola naturalmente come torcia anche da lavoro perpendicolarmente a una superficie metallica nel mio caso mi trovo spesso a lavorare con delle cassette metalliche interamente metalliche quindi l'attacco al soffitto e mi illumina la situazione accendiamola tasto unico laterale ovviamente multifunzione quando l'accendiamo si accende nell'ultima modalità selezionata prima dello spegnimento in questo caso la luminosità bassa chiaro che qui adesso c'è tanta luce ma potete valutare anche voi che la luminosità bassa è realmente bassa infatti sono 15 lumen tenendo premuto il tasto passiamo alla successiva questa è quella media e ancora tenendo premuto a quella alta eccola qua con doppio clic turbo è il turbo ovviamente è potentissimo da questa distanza è ovvio ma quello che voglio farvi notare è l'ampiezza del fascio giusto come confronto mettiamola ecco in modalità alta giusto come confronto già tirerei fuori questa la warrior 3 mini che è una torcia più votata all'utilizzo diciamo tattico ecco guardate la differenza guardate questa parte concentrata guardate questa quanto è ampia aumentiamo la luminosità e si vede ancora meglio questa è una torcia edc questa è una torcia tattica utilizzabile magari anche come edc ma sicuramente questa è più indicata per quel tipo di utilizzo altra modalità strobo tre clic e poi c'è moonlight se noi teniamo premuto a lungo si illumina in modalità moonlight guardate vedete è proprio una modalità molto bassa che serve a illuminare estremamente da vicino oppure per farsi vedere la particolarità di questa torcia è il sensore di prossimità osserviamo quando è accesa in modalità turbo e io mi avvicino ad un ostacolo guardate vedete riduce automaticamente la luminosità naturalmente se io la accendo già vicino ad un ostacolo la riduce subito si nota eccolo qua immediatamente questo funziona sia in turbo che in modalità high vedete tac tac e questa è una bella particolarità tra l'altro non ha nessuna nicchia perché altri modelli più vecchi avevano una nicchia dove era ospitato il sensore di prossimità qui invece è tutto perfettamente liscio guardate questa è una torcia che a me piace moltissimo è sufficientemente compatta ha una lunghissima autonomia senza chiaramente esagerare con turbo eccetera che può essere utilizzata sia come torcia di emergenza a casa ma naturalmente è uno spreco soprattutto come torcia di utilizzo generale da campeggio da ricerca eccetera anche perché è robustissima resistente all'acqua e tra poco andremo a vederla in esterni assieme alle sue sorelle ora vediamo la warrior 3 mini l'ho già estratta dalla scatola e posso già farvi vedere che abbiamo finiture molto simili a quelle della button 3 s pro max vedete questo azzurro che è tipico di o light molto bello ha una zigrinatura una corona qui attorno alla lente che serve nell'utilizzo appunto tattico perché questa torcia per un utilizzo un po più rude e possiamo anche tipo rompere un vetro o cose del genere anche se sono denti abbastanza poco pronunciati ecco anche perché se cominciano a farli molto pronunciati diventano un'arma e si va incontro anche a problemi particolarità di questa torcia è questo nuovo tipo di interruttore di tasto tattico perché nell'utilizzo tattico le modalità di uso della torcia cambiano cioè normalmente una torcia la impugniamo in questo modo l'accendiamo così illuminiamo il campo e infatti questo è l'interruttore diciamo di utilizzo generale nell'utilizzo tattico abbiamo questo interruttore di coda la torcia viene impugnata in questo modo spesso abbinata ad un'arma beh può essere un'arma anche questa no? ti rivetto tutto si tiene con una mano l'arma e con l'altra la torcia oppure con una mano l'arma e la torcia a questa altezza ma ho visto molti video in merito dove tenere a questa altezza la torcia non è molto salutare questo perché? perché la torcia cosa ci serve? ci serve per illuminare un eventuale bersaglio un avversario, un pericolo ma diventa poi un armato più taglio nel senso che nel momento in cui l'accendiamo anche gli altri vedono noi quindi l'effetto sorpresa è importantissimo se noi teniamo la torcia qui vicino alla testa avete già capito? l'avversario ci può vedere e colpire quindi un utilizzo che viene invece consigliato ultimamente nei video che ho visto è questo lontano dalla testa quindi noi terremo l'arma e la torcia separata sempre in questo modo tenete conto che qui c'è effetto sorpresa quindi questi interruttori di coda accendono alla massima luminosità la torcia per abbagliare chi ci sta di fronte e disorientarlo per quei secondi necessari che noi possono servire a scappare o a eventualmente colpirlo alcune torce hanno l'interruttore di coda che attiva la modalità strobo questa no, per attivare la modalità strobo dovremmo fare così tre clic sull'interruttore principale la modalità strobo è una forte arma di autodifesa proprio perché disorienta completamente alcuni fa venire proprio da vomitare disorienta completamente l'avversario, il pericolo eccetera anche nel caso di animali selvatici e cose del genere in questo caso non c'è attivabile con l'interruttore di coda ma solo con quello laterale tra l'altro questo interruttore va un attimo imparato perché premendolo poco e per poco tempo attiva la torcia in modalità normale dando un altro colpo attiva il turbo se invece lo teniamo premuto per più tempo diventa un interruttore temporaneo e questo vale anche per il turbo in dotazione, non ve l'ho ancora fatto vedere abbiamo il solito cavetto di ricarica uguale a quello dell'altra torcia in questo caso anche se c'è un interruttore non in contatti come nella baton abbiamo la possibilità comunque di utilizzare il contatto magnetico ah tra l'altro non vi ho detto che c'è un indicatore di batteria qua in questo caso è ambrato perché l'ho già usata per fare tutte le prove questa utilizza una 18650 da 3500 mAh vediamo esatto 3500 mAh sempre customizzata o light quindi non si possono utilizzare quelle generiche e qui troviamo la stessa cosa che c'era per la baton il nostro accessorio al fatto esattamente nella stessa maniera quindi valgono tutte le stesse caratteristiche pregi e difetti di quello che abbiamo visto poco fa è adesivo e quindi ci permette di utilizzare la torcia in questo modo ma ok avete già capito vediamo un paio di numeri ma in questo caso li voglio confrontare col modello superiore il modello superiore la warrior 3s senza il mini effettivamente superiore perché qui abbiamo una bellissima custodia con scatto cioè una scatola più curata tutto quello che c'è dietro è alimentata da una batteria 21700 quindi più grossa da 5000 mAh quindi la stessa che c'è qua dentro abbiamo la torcia di dimensioni decisamente più importanti d'altronde questa è mini questa no e si vede quello che un po' stupisce però è la diciamo ridotta differenza di luminosità perché qui abbiamo 2300 lumen al massimo per questa grande e 1750 per quella piccola quindi non c'è una differenza così enorme sì è parecchia la differenza ma vedremo poi in esterni che non si nota più di tanto e qui veniamo al dato delle candele che comunque è ben diverso perché qui abbiamo 14400 candele e qui abbiamo 23000 candele se guardiamo questa che è addirittura più potente delle altre due 2500 lumen la Baton 3 Pro Max è più potente 2500 2003 1750 candele 5295 23000 14400 questo ci dice subito così a colpo d'occhio quanto è concentrato il fascio se vediamo lumen bassi e alte candele vuol dire che il fascio è molto concentrato se vediamo alti lumen e basse candele vuol dire che il fascio è molto ampio ce lo dice subito a colpo d'occhio guardando queste due vediamo che quella piccola non è poi tanto diversa si si vede un po' di differenza l'autonomia si è superiore ma non in maniera così eclatante perché i livelli di potenza sono sempre superiori rispetto a quelli della Mini nonostante la batteria sia molto più capace 5000 contro 3500 mAh in realtà abbiamo un'autonomia che è solo marginalmente superiore allora quasi quasi è meglio questa risparmiamo i soldi beh diciamo che comunque qui abbiamo una signora torcia anche se effettivamente mi sarei aspettato delle prestazioni superiori di gran lunga rispetto a questa invece tutto sommato le differenze ci sono ma non sono così stratosferiche quello che mi stavo scordando di dire è che qui c'è un tasto laterale metallico è un miglioramento rispetto anche alla Button 3 Pro perché questa è la di gomma ed è la di gomma anche qui nuova generazione tasto metallico questo perché spesso si tende a premerlo con l'unghia e allora il tasto di gomma prima o poi si rovina mentre qui no è molto più robusto sempre la clip AS tipica di tutte le Olight praticamente l'ultima cosa che volevo farvi notare è il funzionamento un po' diverso rispetto alle altre torce Olight del sensore di prossimità se noi accendiamo la torcia subito in modalità alta con un ostacolo vicino riduce immediatamente la luminosità guardate lo vedete se invece io imposto la luminosità alta e poi mi avvicino la luminosità non viene ridotta ma scatta il controllo di temperatura quindi manterrà la luminosità alta ma chiaramente nel momento in cui la temperatura diventerà troppo elevata ridurrà la potenza infatti ho provato anche ad appoggiarla così adesso è accesa e ne scioglie la superficie sulla quale viene appoggiata né si surriscalda la lampada perché subito scatta il controllo di temperatura hanno fatto un sistema ibrido che in effetti rispetto a questo sistema risulta un po' più comodo in questo caso io accendevo e in ogni caso arrivati vicini si riduceva la luminosità questo secondo quello che è stato comunicato dai clienti dava un po' fastidio questa cosa che avvicinandomi riduceva la luminosità dava un po' fastidio quindi qui l'hanno fatta come discorso di sicurezza io accendo vicino riduco la luminosità perché si pensa ad un azionamento involontario perché nessuno sanamente azionerebbe la torcia a questa distanza in turbo se invece io ce l'ho già azionata e voglio andare vicino a quel punto è intenzionale allora mantengono la luminosità costante direi che ho parlato anche troppo andiamo a vedere le prove in esterno e ci vediamo per le conclusioni eccoci qua nella nostra terrazza la terrazza del paese dove si vede tutto il paese da sopra c'è anche poca illuminazione pubblica oggi risparmiano accendiamo la button 3 questa è la minima luminosità qui si può vedere che illumina molto da vicino media luminosità massima luminosità illumina bene vedete quell'albero è una trentina di metri proviamo a vedere un po' cosa riesce a fare ecco qua illumina quell'albero che ha un centinaio di metri abbastanza bene oltre praticamente non arriva si vede subito questa è una torcia edisi quindi non è fatta per le lunghe portate è una torcia per portate medie ed è infatti quello che possiamo vedere dai risultati pratici in turbo in turbo ovviamente il risultato migliora vedete che tira parecchio più lontano forse a 150 metri riesce a farli c'è la solita foschia d'altronde anche se è già piovuto vedete che non arriva all'eccellenza di alcune torce che ho provato che illuminano quelle costruzioni lì in fondo che sono circa 300 metri di distanza comunque per un'illuminazione a media distanza è assolutamente ottima vedete va benissimo e ha anche e soprattutto una bella ampiezza che è fondamentale per una torcia edisi questa è la warrior 3s l'ho presa per confrontarla con la warrior mini 3 vedete che qui abbiamo un fascio molto concentrato questa è la minima luminosità mettiamo la media alla media già abbiamo un fascio molto potente ma sempre molto concentrato anche se è una corona un po' più ampia che ci permette di utilizzarla in maniera abbastanza soddisfacente anche a distanze ravvicinate ma comunque questa è una torcia già concepita per l'uso tattico infatti se mettiamo la massima luminosità vediamo che già quell'albero viene illuminato bene idem per quanto riguarda il paesaggio qua sotto aumentiamo ancora questa è la modalità turbo anche qui non arrivo a illuminare troppo lontano c'è anche un po' di foschia ma comunque vediamo che ha una forte luminosità abbastanza concentrata con altre torce illuminavo una casa che sta lì ma in questo caso no ora passiamo alla sua sorella minore questa è la luminosità minima della warrior mini vedete che è altrettanto concentrata come il modello superiore forse addirittura di più infatti qua viene dichiarata una portata di 230 metri e infatti illumina molto da vicino e molto concentrato alla luminosità minima mettiamo la media la media è già a una diversa resa vedete molto più potente comunque non arriva già ad illuminare l'albero qua che è una trentina di metri mettiamo la massima ecco qua e qui cominciamo a ragionare già inizia ad illuminare quegli alberi che sono a più di 50 metri questo lo illumina bene scendendo più o meno sembra avere una resa simile al modello superiore chiaramente qui questo è il turbo il turbo illumina molto bene questo albero e si spinge anche abbastanza lontano vedete nell'illuminazione del paesaggio sembra addirittura avere una resa migliore per certi versi rispetto al modello superiore vediamo un po' la casa là in fondo ma sembra veramente avere una portata maggiore rispetto all'altro modello però in realtà la resa è molto simile così di primo acchito non si vede una grossa differenza ripeto la grossa differenza sta nell'autonomia se provo il turbo per illuminare un edificio vicino chiaramente la luminosità è più che abbondante e anche abbastanza diffusa si riesce a utilizzarla bene anche come torcia per distanze ravvicinate non è troppo concentrato il fascio bene il solito campo di battaglia quando faccio i video tiro fuori tiro fuori poi mi ci vuole un'ora mettere a posto va bene quindi abbiamo tre torce una l'avevamo già vista le altre due sono novità sul canale due torce ovviamente spettacolari come tradizione come ci ha abituato all'ite dal prezzo sostenuto ma in promozione ci sarà una grossa promozione sul sito light vi lascio naturalmente tutti i link oltretutto c'è un codice di sconto THM15 che potete utilizzare sempre tutto l'anno fuori dai periodi di promozione o comunque per i prodotti non in promozione per avere uno sconto del 15% in questo caso queste saranno scontate ci sarà anche un omaggio non so se lo danno con tutte c'è questa simpatica torcia porta chiavi piccola piccola con il suo bell'anellino della potenza giusto per illuminare la serratura e poco di più ma comunque molto carina e sempre nella tradizione all light di ottime finiture e materiali quindi mettete mi piace al video leggete in descrizione tutta la meccanica della promozione e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle novità venite ad iscrivervi al mio gruppo facebook consorzio e manutentori indipendenti al gruppo kubrick system italia gruppo che parla di quelle fantastiche valigette porta attrezzi dei quali ho già fatto diversi video e ne arriveranno ancora e poi al gruppo italiano utensili tempo parlo sempre di gruppi facebook mi raccomando utilizzate poi i link che lascio in descrizione sia quelli di amazon che di altri siti per aiutare il canale sono link di affiliazione voi entrate con quel link non spendete nulla di più e aiutate il canale e noi ci vediamo la prossima volta ciao